La polizia del Bangladesh indaga su estremisti locali per trovare la matrice dell'attentato di venerdì a Dhaka. I sette terroristi, sei uccisi e uno arrestato erano bengalesi. Dubbi sulla rivendicazione arrivata dall'ISIS per l'attacco in cui sono stati uccisi 20 civili, 9 erano italiani. Gli attentatori erano soprattutto di famiglie ricche e istruite, affermano le autorità, ed è atteso a metà della settimana prossima il rimpatrio delle salme dei nostri connazionali uccisi. Il rientro dei corpi dovrebbe avvenire fra mercoledì e giovedì. Arrivato a Dhaka l'aereo della presidenza del Consiglio che porterà a Ciampino i feretri ad accoglierli insieme alle famiglie, ci sarà il capo dello Stato Mattarella.